Gabriele Mancuso di Trova il Tempo, perché è importante che voi siate qui? Perché abbiamo fatto lezione a quasi mille persone gratuitamente durante tutti i giorni della fiera di tutti gli strumenti, basso, batteria, testiera, chitarra, voce e via dicendo. Quindi permettiamo alle persone di poter sperimentarsi durante la fiera nel proprio ambito musicale. Uno non può trovare la propria strada grazie a questo momento insieme all'interno della manifestazione. Tanta roba!